mi guardate e mi vedete diverso a tratti strano lo so che pensate me ne accorgo anche se spesso non ascolto le vostre parole io so andare oltre so vedere ciò che voi non guardate so ascoltare ciò che voi non sentite non mi sento diverso non mi sento strano sono semplicemente autistico mica scemo autismo conoscere vuol dire comprendere 2 aprile 2020 giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo